Il Brennero a Borgo Ammozzano non riaprirà prima di 30-40 giorni. Questo quanto emerso al termine del sopralluogo condotto dai tecnici dell'ANAS che ha competenza sulla statale. Al sopralluogo hanno partecipato anche l'autorità di Bacino e il Genio Civile, il consigliere regionale Stefano Baccelli e i rappresentanti dei comuni della Mediavalle. Si era ipotizzato una riapertura immediata a senso unico alternato del tratto di strade interessato dallo smottamento della scorsa settimana, ma questo non è possibile, ha annunciato il sindaco del Borgo Andreucetti, in quanto il danno provocato dalla frana è più profondo di quanto inizialmente era apparso. I tecnici ANAS hanno iniziato a predisporre il cantiere ed i lavori inizieranno a breve con l'obiettivo di aprire la strada con il semaforo, anche per i mezzi pesanti, nel giro appunto di 30-40 giorni. Il sindaco Andreucetti ha inoltre annunciato che da subito, tramite l'interessamento della regione e di tutti gli enti coinvolti, verrà predisposto un piano per prima progettare e poi reperire i finanziamenti, al fine di mettere in sicurezza l'argine del fiume per poter ripristinare il regolare doppio senso di marcia. Su quest'ultimo punto, ha però aggiunto il sindaco, al momento non possiamo parlare di tempi. È certo però che occorrerà un grande ed efficace gioco di squadra. Ad inizio settimana Andreucetti dovrebbe incontrare attività commerciali, industriali e popolazione interessata per condividere insieme strategie da portare avanti di fronte a questa situazione di emergenza.